Tra richiedenti asilo davanti alla questura di Milano, sentiamo perché e che cosa è accaduto con Luigina Venturelli qui in studio. Sì, i disordini scoppiati ieri mattina prima dell'alba davanti alla caserma di Via Cane in zona Bicocca sono nati banalmente da alcuni tentativi di saltare la fila. Qui infatti da oltre un anno a Milano ci sono gli uffici distaccati della questura per presentare le domande di protezione internazionale. La scorsa notte davanti ai cancelli c'erano circa 700 persone in attesa al freddo e i primi bivacchi erano apparsi addirittura venerdì pomeriggio. Il lunedì infatti è il giorno migliore per presentarsi, vengono accolte circa 120 domande contro una ventina negli altri giorni della settimana. E verso le 6 un centinaio di persone, prevalentemente di nazionalità egiziana, ha cercato di guadagnare i primi posti della fila e di sfondare i cancelli. Dunque è scoppiato il caos, la polizia è dovuta intervenire con i lacrimogeni per disperdere la folla e sedare i tafferugli. Sono bastati pochi minuti a riportare la calma, ma restano le polemiche con i volontari del Naga che assistono i migranti, che dicono che le procedure sono inefficaci, sono troppe le domande per quelle che gli uffici riescono a smaltire e il sindacato di polizia SIP parla di situazione potenzialmente esplosiva. È tutto.